Un prestigioso riconoscimento internazionale di qualità ed eccellenza è stato assegnato ad alcuni prodotti di due aziende dell'Alto Tevere. Abbiamo avuto la soddisfazione per il terzo anno consecutivo, stanno abbiamo fatto un emplaine con 5 nostri prodotti al Merano Wine Festival, abbiamo vinto 5 premi. Il Merano Wine Festival è una manifestazione dedicata principalmente ai medi e piccoli produttori sia di vino ma anche di food. È una manifestazione gratuita, perciò non c'è nessun interesse dietro, però dà soddisfazione alle piccole e medie imprese che molte volte non hanno possibilità di accedere a delle manifestazioni per esorbitanti costi. La ricerca del tartuffo in Umbria apre il 1 ottobre, in Toscana aperta dal 10 settembre. Il periodo di vendegna come sta andando? Abbastanza bene perché essendo una delle estati più calde forse della nostra storia, i nostri terreni hanno resistito bene alla siccità e mantenendo certi percentuali di umidità, quindi le nostre vigne nella zona collinare non hanno particolarmente sofferto. È un pochino anticipata, leggermente, però questi giorni di basse temperature hanno riallungato i tempi un po' di vendemmia, aspettando i momenti opportuni per raccogliere. È importante avere il riconoscimento perché quantomeno destiamo l'interesse su questa zona di persone, di utenti, che magari nemmeno sapevano che esistesse dal punto di vista enologico. Il Tarragoni 2021 e il Settegrappoli 2020 sono un Sangiovese in purezza vecchiato su botti di legno per due anni, il Settegrappoli rigovernato, Merlò rigovernato con Sangiovese appassito. Diciamo che si sono accorti di noi anche il Gambero Rosso con due bicchieri su un vino sul San Giovanni, di Vivenda. Lo stesso Einhunter, anche in passato, ci ha riconosciuto altri vini. Per me è una buona soddisfazione.